Cioè, io stasera non posso, cioè, un po' d'acqua, sì, cameriere, cioè, ma io credo che questo non è un rischio, sarà una trattoria, cioè, non credo, cioè, Villarota non mette a mia disposizione l'acqua, ma che vergogna, ma che vergogna, cioè, io volevo dire un'altra cosa, che comunque, cioè, posso fare una domanda, cioè, io stasera devo controllare un programma, cioè, ma tu sei sicuro che ti sei sposato? Ah, tu tradisci, no, eh, tradisci? Cioè, tradisci? Ah, adesso no, cioè, posso farti una domanda, cioè, devo fare una domanda, cioè, posso? Cioè, posso farti una domanda? Cioè, lo faccio a tutti gli sposi, e comunque, quando vengono qua, che si sposano, eccetera. Allora, se tu, no, stessi con me, chiusi in una, in una camera, in una casa, per tre mesi chiusi dentro, e nessuno mai saprebbe mai cosa fosse successo tra di noi, non ci sono le telecamere come grande fratello, quale parte di me preferiresti, quello della donna o l'altro? Ah, aspetta, aspetta, questo è il microfono, tesoro. Lei, sicuramente la femminile? La femminile? Non gli ho avuto lì, sono tutti quanta così.